Musica Costruiremo il nuovo ospedale di Cosenza e l'annuncio del presidente della giunta regionale Mario Oliverio che ha preso parte a Cosenza la giornata all'infermiere. Il governatore calabresi è così intervenuto su una vicenda decisamente delicata, quella della sanità cosentina e dei problemi relativi all'ospedale della città Copluogo, annunciando un'opera dalla quale si era parlato in passato ma che di fatto non è stata mai realizzata. Questa città, detto Oliverio, merita, così come le altre della nostra regione, strutture idonee e soprattutto moderne, in grado di offrire servizi appropriati a pazienti, cittadini e a tutti quelli che lavorano in questo settore. L'annuncio della costruzione del nuovo hub cittadino è stata fatta davanti a numerosi medici ed infermiere dell'azienda ospedaliera che qualche settimana fa avevano scioperato proprio per protestare per le difficili condizioni lavorative. Solo il futuro dirà se l'annuncio di Oliverio si tramuterà in realtà o se la sanità calabrese e cosentina e di conseguenza i cittadini dovranno ancora una volta fare i conti con decenni di cattiva gestione del comparto.